Chi vuoi corteggiare? Sì, penso. Perché è, non ti piace, è carina, ma è carina. Io sono partita esterna, buona, già. Non ti sveglia, ma... Ammazza che capelli di voi. E lo devo aspettare, guarda, 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 questo c'è perché stava con un'alatronista, eh. Chi tra le persone che hanno partecipato avresti corteggiato? Federico. Chi piace ciò, le pari? Chi ha fatto? si Un intenso e luminoso con oro duro di 4 carati Puoi usare il mondo intorno a te Chiama la tua presentatrice per un catalogo A.O. La bellezza del futuro Mina Sulla tua bocca lo tirò Finalmente il disco Avete sempre dovuto fare Mina, le romanze e il melodrama La tua bolletta è sempre più salata Fazzatele pure Esercizzi a carne perico Per locali nazionali limitati Resta in subito Prenda sei baccello E sei ricordato Sono 4,90 euro al mese Fino a serra costo Ma subito e manda le scelte di bagnare Fino al 12 marzo Vemate il 2 a 18-22 Ciao a tutti Oggi abbiamo una sorpresa Un gran ragù Un gran ragù Mai provato Ci pareva Saranno le sue verdure profumate Con la sua carne scese La cottura lenta Il suo sapore di ragù Buono Ce l'hai ancora? Finito Gran ragù Il suo sapore di ragù Il suo sapore di ragù